Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo appuntamento con gli eventi della settimana nel mondo della scuola con il vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo. Professore eh che novità ci sono a proposito del decreto mille proroghe? Mi riferisco soprattutto alla questione dei vincoli. Ma sulla questione dei vincoli c'è una novità eh interessante perché per quanto ne sappiamo in questo momento giovedì i tecnici del ministero dell'istruzione e del merito dovrebbero incontrare i tecnici dell'Unione Europea per chiarire la questione la questione proprio dei vincoli alla mobilità. L'Unione Europea sostiene che i vincoli servono per garantire meglio la continuità didattica come per altro previsto proprio anche dal PNRR. Da parte italiana si fa presente che non è proprio così anzi forse eh qualcuno dice che eh i vincoli alla mobilità sarebbero un po' eh contro anche la stessa continuità didattica non è detto che i vincoli servano a migliorare eh la eh continuità didattica quindi insomma su questo si giocherà un po' il confronto fra eh Italia e Europa in questo incontro fra tecnici che ci sarà appunto giovedì. Dopodiché se l'Unione Europea eh si convincerà delle spiegazioni che da parte italiana verranno date eh allora può darsi che qualche cosa cambi ed è possibile che nel decreto mille proroghe venga inserito un emendamento come tanti desiderano come tanti chiedono che eh elimini proprio i vincoli alla mobilità. È tutto qui o c'è anche qualche altra questione aperta? No c'è una questione molto importante che riguarda il concorso per dirigenti scolastici del duemiladiciassette. Su questo concorso come sappiamo sono pendenti molti ricorsi da parte di eh concorrenti che non lo avevano superato e a questo punto c'è un emendamento che eh prevede che tutti coloro che non hanno superato o la prova scritta o la prova orale potranno accedere ad un percorso speciale diciamo così ad una sorta di concorso riservato anche se questo termine forse non è del tutto esatto che eh consenta loro appunto di rifare il concorso e di arrivare alla fine e di essere poi inseriti nella graduatoria di merito. C'è soltanto un piccolo particolare che lascia molto perplessi cioè questo ulteriore concorso speciale o riservato come lo si voglia chiamare eh sarà aperto soltanto a coloro che hanno fatto ricorso. Quindi tutto sommato mh questa clausola sembra quasi un po' un incentivo di qui in avanti a fare ricorso cioè un po' come dire fate ricorso eh intanto poi magari eh il legislatore in un modo o nell'altro eh interverrà per eh darvi come dire una possibilità in più anche se non avete superato il concorso. Vedremo che cosa succederà nel dibattito eh al Senato su questo problema. Passiamo al tema delle iscrizioni al prossimo anno scolastico duemilaventitré duemilaventiquattro che si sono chiuse proprio ieri trenta gennaio ehm cosa è emerso dai primi dati forniti dal ministero? Beh allora i dati che emergono eh dalle tabelle che ha fornito il ministero sono davvero molti. Io mi soffermo solo su una questione che ogni anno fa molto discutere ed è la questione della richiesta del tempo scuola sia nella scuola primaria sia nella secondaria di eh primo grado. Eh come eh capita ormai da molti anni noi vediamo che eh nella sia nella primaria che nella secondaria di primo grado la richiesta di eh tempo pieno o di tempo prolungato è molto molto diversificata a seconda delle regioni. Per esempio per quanto riguarda il tempo pieno della primaria viene scelto dal sessantatré per cento delle famiglie in Emilia Romagna ma soltanto dal diciotto per cento in Sicilia eh o soltanto dal diciassette per cento eh nel Molise dal trentatré per cento in Abruzzo. Cioè paradossalmente nelle regioni dove forse ci sarebbe più necessità di estendere il tempo scuola c'è una minore richiesta e la stessa cosa vale appunto per la eh secondaria di primo grado. Addirittura nella secondaria di primo grado eh il tempo prolungato a trentasei ore viene chiesto dal quattro per cento delle famiglie in Puglia ma dal sedici per cento delle famiglie in Lombardia, in Piemonte e anche in altre regioni del del nord. Ecco quindi su questo bisognerebbe un po' riflettere e capire se questo fenomeno è legato soltanto alla carenza di strutture o non è legato forse anche ad una questione di carattere più culturale generale. Quindi sarebbe interessante fare un' indagine proprio su questi dati. Passiamo alle ricorrenze. Cosa si ricorda questa settimana? Beh questa settimana c'è una ricorrenza molto interessante, molto significativa, non ha a che fare direttamente col mondo della scuola ma è importante. Il primo di febbraio del millenovecento quarantacinque il presidente del consiglio Ivano Ebonomi, ricordiamo che all'epoca l'Italia era ancora una monarchia, firmò un decreto con cui consentiva alle donne di votare, non ancora di essere elette come accadde poi nel millenovecento e quarantasei con un decreto della primavera di quell'anno che fu quello che poi aprì alle elezioni amministrative della primavera del quarantasei e poi al referendum su monarchia costituzione ma comunque fu un passo importante verso il riconoscimento dei diritti dei diritti delle donne quindi è una data che in qualche modo va ricordata magari nei percorsi di educazione civica che si fanno nelle scuole se ne potrebbe parlare. Grazie al professor Reginaldo Palermo il vice direttore della tecnica della scuola per queste risposte un saluto a tutti al prossimo appuntamento. Grazie a voi. Grazie a tutti.